Ma buon dia a tutti amici di Doppia Frizione Qui c'è una nuova postazione per gli unboxing Attenzione Faccio la tectonic Oggi Non so che non mi vedete in faccia però Toner Crate Ci siamo Siamo tornati più carichi di prima Quindi Andiamo subito all'unboxing Cerchiamo di tenerlo Più centrato possibile Ok Come prime cose Sento magliette ovviamente perché la Toner Crate Mette 4 magliette però Sento adesivi Tipo Un Porsche Bellissimo rosso Poi In Speed with Rust Ho tante magliette con in Speed with Rust E poi Con la RX-7 Questo qui è figo Poi Cheers come sempre Che bisogna Condividere Sempre E poi Un Arbre Magique della Toner Crate In Speed with Rust Sempre Che servono sempre Ora Tirano fuori pian piano le magliette Bella 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 fumettosa Mi piace Aspettate Eccola Bellissima Con anche davanti C'è scritto TC Bellissima Fumettosa Poi Altra maglietta Altra maglietta Questa volta bianca È Porsche Porsche It's so rough Bella Bianca però Non ne metto Quindi probabilmente La regalerò a qualcuno La maglietta Della RX-7 Bellissima Questa qui la metto E Infine Come quarta maglietta C'è Aspettate Che Vroom Che figata Non capisco il modello Un attimo Che Al contrario È un po' Un po' così Sembra un Dodge Un Dodge Challenger Quindi Ok E niente È finito Subito Qui c'è Tutti i scontrini Eccetera Eccetera E niente So che è stato breve Ma Dovevo fare un video Per domani Che è sabato E Quindi Ho deciso di fare Questo unboxing Perché Era Quello più corto Da fare Sicuramente Anche quello Con meno Tagli E quindi Ve lo piazzo Subito Qui Anche se Da 5 minuti Perché Non ho avuto Un crebio Di tempo Di fare Altri video Quindi Unboxing Yeah Niente Io Vi saluto E Vi rimando A un prossimo video Sul canale Di doppia frizione Allora